Google oggi ha deciso di omaggiare Gino Bartali con un doodle in occasione dei 104 anni dalla sua nascita. Lo chiamavano Ginetaccio per via del carattere rude e l'abitudine a parlare chiaro, un tampione nello sport e nella vita che ha fatto la storia dello sport italiano e del ciclismo. Una carriera durata 20 anni, ha vinto tre giri d'Italia, due tour, quattro Milano-Sanremo, quattro campionati italiani e tanto altro. Impedì una guerra civile in Italia e salvò centinaia di ebrei. Due volte rischiò la fucilazione. Oggi è un pezzo della storia italiana.